Allora, continuiamo la nostra passeggiata nel giardino zoologico di Friedrich Nietzsche, o come dicono i russi Nietzsche, e vediamo oggi cosa ci riserva questo nuovo padiglione della filosofia del mattino, diciamo così. La fase illuministica è stata, abbiamo visto, una fase di transizione verso quelli che sono poi i punti conclusivi e risolutivi della filosofia di Nietzsche, cioè quel nichilismo attivo che lui oppone al nichilismo passivo, inteso come decadenza della civiltà del suo tempo, la civiltà della Belle Epoque e la civiltà del positivismo. Tant'è vero che si nota già che la metafora del mattino si oppone proprio all'idealismo e alla nottola di Minerva, e quindi c'è un ribaltamento proprio rispetto alla filosofia dell'Ottocento, della parte iniziale dell'Ottocento, perché poi Nietzsche pure è nato nel 1844 e quindi comunque metà dell'Ottocento fino alla morte nel Novecento l'ha attraversata. Gli elementi che emergono e che sono presenti in questa fase, che troveranno nella fase conclusiva la loro piena definizione, sono il concetto di morte di Dio e il concetto di amorfati, e quindi la negazione in fondo della libertà, perché poi la libertà è qualcosa che appartiene al cristianesimo. Tant'è vero che proprio adesso, stavo studiando, ci sono un filosofo israeliano che dice che il concetto di libertà è un concetto cristiano e quindi in una società post-cristiana questo concetto nella nuova civiltà tecnologica non ha nessun senso di esistere e l'uomo deve essere un ente controllato in pieno dalla tecnologia. Quindi il concetto di amorfati è il concetto di morte di Dio per tornare a Nietzsche. L'uomo qui si libera in un certo senso, si emancipa dalla morale, dalla religione, dalla trascendenza e abbiamo visto lo spirito libero, il Freygeist, concepisce la vita come un esperimento, non come esperienza, come esperimento. Lo spirito libero quindi riconquista la propria esistenza quasi con un atto, diciamo così, di forza e crea l'uomo superiore, che poi sarà perché lo spirito libero diverrà, lo Jubermensch, l'uomo superiore, cioè il superuomo, colui che crea ed impone nuovi valori. Per cui mi sento di dire, con cognizione di causa, che non ha per niente ragione, è pienamente nel torto Gianni Vattimo, quando il nichilismo ed emancipazione dice che il nichilismo è una liberazione dal dominio della metafisica che imporrebbe all'uomo una gabbia, gli impedirebbe di essere libero. In realtà Nietzsche non dice affatto questo, perché il superuomo di Nietzsche è antidemocratico, è colui che crea nuovi valori, impone l'essere al divenire, e sapendo comunque che quest'essere è destinato a consumarsi, ma crea questi valori e li impone, questo con un atto di volontà, di potenza. In più, le opere che caratterizzano questo periodo sono umano, troppo umano, aurora, ma in maniera particolare la Gaia Scienza. Questo termine che viene dalla tradizione dei trovadores, dei trovatori, ha in Nietzsche un significato ben preciso, cioè la scienza è Gaia perché non ha più quella solennità del concetto, ecco che ritorna fortemente l'elemento antisocratico, ma che in realtà rappresenta il grande autofraintendimento di Nietzsche, come vedremo nelle prossime lezioni. Quindi la scienza è una scienza non concettuale, una scienza che linguisticamente, in maniera letteraria, si presenta come aforisma, e di fatto la Gaia Scienza, potremmo dire, è una piccola enciclopedia che riassume tutto il percorso che Nietzsche ha fatto fino ad ora e apre ad un nuovo percorso. Tant'è vero che nella Gaia Scienza troviamo, per esempio, l'aforisma 340, Socrate morente, che rimanda alla nascita della tragedia, ma poi troviamo l'aforisma 341, il peso più grande, che rimanda al problema del tempo e all'eterno ritorno dell'uguale, per non parlare del famosissimo aforisma 125, dove si annuncia la morte di Dio, che è uno dei temi che troveremo nell'inizio, diciamo così, maturo della maturità. L'altro elemento, quello dello Jubermensch, cioè dell'uomo superiore, del superuomo, e poi vedremo di dare una risposta oltre uomo, superuomo, uomo superiore, Jubermensch, lo troveremo in maniera specifica nell'ultima parte dell'Alsosprach Zaratustra, cioè così parlò Zaratustra. Oggi però ci concentriamo un po' su alcuni aforismi della Gaia Scienza, in maniera particolare l'aforisma 340 su Socrate morente, che conclude definitivamente quella questione e ci chiarisce la posizione di Nietzsche non soltanto rispetto a Socrate, ma rispetto a tutta la storia della metafisica, o meglio, della sua ricostruzione storica della metafisica, della sua interpretazione della metafisica, perché se, come Nietzsche aveva detto, non esistono fatti, ma solo interpretazioni, la sua, coerentemente con quanto dice Nietzsche, è una semplice interpretazione della storia della metafisica. Ma voglio rileggere questo aforisma che rimanda poi in realtà alla parte conclusiva del fedone di Platone, perché si raccontano degli ultimi momenti della vita di Socrate, attraverso questo spaccato Nietzsche riafferma quel principio suo che aveva affermato nella seconda parte della nascita della tragedia. Ammiro, dice Nietzsche, la forza d'animo e la saggezza di Socrate in tutto quanto egli fece, disse e non disse. Questo ateniese, spirito maligno e ammaliatore, sento l'eco di Aristofane, beffardo e innamorato, ancora, che faceva tremare e singhiozzare i giovani più tracotanti, non fu soltanto il più saggio chiacchierone che sia mai esistito. Fu altrettanto grande nel tacere. Avrei voluto che anche nell'ultimo momento della vita fossere stato silenzioso. Allora forse sarebbe appartenuto ad una categoria di spiriti ancora più elevata. Fosse stata la morte o il veleno, to farmacon, la religiosità dell'animo o la malvagità, certo è che qualche cosa all'ultimo momento gli sciolse la lingua e lui disse, frase presente citata nel fedone, dal fedone, Cretone, sono in debito d'un gallo ad Asclepio. Queste ridicole, terribili, ultime parole significano per chi ha orecchie o Cretone, la vita è una malattia. Possibile? Pessimista un uomo par suo che visse serenamente e sotto gli occhi di tutti come un soldato? non si era appunto preoccupato d'altro che di far buon viso alla vita e per tutta la durata di essa aveva tenuto nascosto il suo giudizio ultimo, il suo più intimo sentimento. Socrate, Socrate ha sofferto della vita e se neanche vendicato con quelle parole velate, atroci, pie, beffarde, blasfeme e per di più un Socrate sentì la necessità di vendicarsi? Mancava forse alla straricca sua virtù un granello di magnanimità? Ah, amici, noi dobbiamo superare anche i greci. Cosa vuole dire Nietzsche con questo frammento? Essenzialmente due cose. Che cosa significa la frase di Socrate? Critone, ricordati, siamo in debito di un gallo a Sclepio. Quando un greco fa un sacrificio al dio della medicina a Sclepio? Quando viene guarito. Da cosa Socrate viene guarito? Dalla vita, ma per Nietzsche e per Socrate sono due concetti vita completamente diversi. Dalla prospettiva dunque di Socrate nel fedone è la liberazione dell'anima che finalmente libera dal corpo può contemplare la verità. Per Nietzsche per cui la vita è zoe cioè vita biologica quella fuga dalla vita biologica è una fuga dalla vita. Ecco perché Nietzsche ce l'ha a morte con Socrate ma vi annuncio che ci sarà una vendetta post litteram di Socrate nei confronti di Nietzsche proprio nei confronti di Nietzsche ma vedremo quando faremo la filosofia del novecento. questo frammento è importantissimo per capire la posta in gioco e la misura del conflitto di Nietzsche con Socrate che emblematicamente racchiude secondo me il conflitto di tutta la filosofia contemporanea o meglio post-moderna da questo punto di vista però continuiamo a seguire il percorso Nietzsche i temi successivi e ci fermiamo soltanto sul primo di questi o se abbiamo tempo riusciamo anche a raggiungere gli altri ma non credo quello della questione dello Ubermensch cioè il superuomo l'annuncio della morte di Dio e sì è vero che lui poi riprenderà nello Zaratustra e dirà io vi insegno lo Ubermensch il superuomo l'uomo è qualcosa che deve essere superato tutti gli esseri hanno creato qualcosa al di sopra di sé e voi volete retrocedere alla bestia piuttosto che superare l'uomo l'uomo deve essere tramontato ma io vedo questo accadere oggi col transumanesimo per esempio che dice che l'uomo deve essere integrato dalla tecnologia che l'uomo deve essere superato e su questo ci torneremo quando faremo la filosofia del novecento ma adesso andiamo a leggere questa piccola enciclopedia che è la Gaia Scienza di Nietzsche il famosissimo frammento 125 della Gaia Scienza in cui si parla della morte di Dio l'uomo folle è intitolato in realtà il frammento è abbastanza lungo non credo di leggerlo tutto quanto soltanto qualche parte qualche elemento innanzitutto l'inizio l'incipit avete sentito di quel folle uomo che accese una lanterna alla chiara luce del mattino corse al mercato questo tema del mercato ritornerà anche nella parte conclusiva del così parlò Zaratustra un luogo diciamo che gli uomini superiori devono diffidare del mercato e si mise a gridare incessantemente cerco Dio cerco Dio e poiché proprio là si trovavano raccolti molti di quelli che non credevano in Dio suscitò grandi risse e forse perduto disse uno si è perduto come un bambino fece un altro oppure sta ben nascosto a paura di noi si è imbarcato è emigrato gridavano e ridevano in una gran confusione il folle uomo balzò in mezzo a loro e li trapassò con i suoi sguardi dove se ne è andato Dio gridò ve la voglio dire siamo stati noi ad ucciderlo voi ed io siamo tutti noi assassini come abbiamo potuto fare questo sintetizzo come abbiamo potuto bere il mare come abbiamo avuto il coraggio di compiere questo gesto e come facciamo a muoverci adesso non ci precipita tutto a destra a sinistra non è il nostro un precipitare all'indietro cioè un non avere più punti di riferimento sì Dio è morto Dio resta morto poi qui Nietzsche fa un paragone con la putrefazione di Dio vabbè insomma si lascia andare un po' allo spirito dello scrittore eccetera ma quello che è la parte conclusiva è l'elemento più nicciano diciamo di questa lettura che Nietzsche fa e cioè non ci fu azione più grande per l'uomo superiore per lo Juberman per il superuomo la morte di Dio rappresenta potremmo dire la sua divinizzazione cioè l'uomo adesso può fare tutto quello che vuole in realtà Dostoevsky l'aveva detto quando aveva definito il nichilismo conseguente alla morte di Dio se Dio non esiste tutto è permesso in Dostoevsky c'era una rigorosa profonda condanna morale di questo fatto ma siccome Nietzsche è un pensatore amorale questo per l'uomo superiore rappresenta l'opportunità perché perché adesso lui può essere creatore di nuovi valori sapendo che questi valori sono destinati a scomparire a tramontare anch'essi quindi crea nuovi valori nuove tavole di valori e le impone perché la volontà di potenza non vuole altro che se stissa e non vuole che accrescersi non ci fu mai azione più grande tutti coloro che verranno dopo di noi apparterranno in virtù di quest'azione ad una storia più alta di quanto mai siano state tutte le storie fino ad oggi qui siamo nel pieno della iubris potremmo dire l'uomo si presenta come prometeo vive oltre Dio questo è uno degli aspetti della postmodernità mentre l'ateismo è stata la caratteristica del primo novecento l'ateismo si presenta come un attacco frontale a Dio e conserva la struttura di una religione potremmo dire che Nietzsche che è il filosofo che emerge nella seconda metà del novecento fino all'alba del ventunesimo secolo rappresenta la questione della come potremmo dire dell'inutilità della posizione o meno dell'esistenza di Dio perché perché a questo punto il folle uomo tacque e si rivolse di nuovo lo sguardo ai suoi interlocutori anche essi tacevano e lo guardavano stupiti finalmente gettò a terra la lanterna che andò in frantumi e si spensa vengo troppo presto proseguì non è ancora il mio tempo questo enorme avvenimento è ancora per strada e sta facendo il suo cammino non è ancora arrivato fino alle orecchie degli uomini fulmine e tuono vogliono tempo il lume delle costellazioni vuole tempo eccetera eccetera quest'azione è ancora sempre più lontana da loro dalle più lontane costellazioni eppure essi l'hanno compiuta che altro e vabbè insomma poi alla fine sembra quasi una una profezia del tempo moderno in cui in occidente si assiste a una terribile crisi del cattolicissimo del cristianesimo occidentale latino cacciato fuori si racconta ancora che l'uomo folle abbia fatto irruzione in diverse chiese e qui vi abbia intonato chiedo scusa il requiem eternam deo cacciatone fuori interrogato pare che abbia risposto che altro sono ancora queste chiese se non le fosse e i sepolcri di dio ma in realtà il progetto di Nietzsche manifesta il suo volto oscuro in quanto una società post cristiana è una società che non si legge e che è destinata ad implodere profondamente perché viene meno il fondamento stesso di quella libertà tant'è vero che vi ho anticipato che la questione della cancellazione della libertà individuale sostituita dal controllo della tecnologia sarà uno dei temi del prossimo decennio paradossalmente il decennio che va dal 20 al 30 avrà come obiettivo la cancellazione della libertà individuale morto dio muore l'uomo che diventa materia del processo produttivo e viene cancellata la sua diciamo libertà c'è una robotizzazione antropologica dell'uomo in atto ma torniamo a Nietzsche non divaghiamo troppo perché anticipiamo troppi temi della filosofia del novecento ora io vorrei anticipare qualcosa della questione dello Ubermensch ma anticiparla soltanto perché poi vorrei affrontarla la prossima volta assieme alla questione dell'eterno ritorno dell'uguale della trasvalutazione di tutti i valori e della filosofia colpi di martello cioè la questione è quella della traduzione del termine usato da Nietzsche Ubermensch Uber iper in greco cioè all'equivalente dell'iper greco significherebbe sia oltre che sopra la questione ermeneutica si pone perché perché diciamo come vi ho già anticipato intorno agli anni settanta c'è stato uno sdoganamento proprio potremmo dire dal punto di vista ideologico di Nietzsche che è stato recuperato dalla potremmo dire cultura giacobina che fino ad allora lo aveva relegato nell'antifilosofia come vi ho detto il traduttore Giorgio Colli di Nietzsche ebbe difficoltà a farlo tradurre a pubblicare la traduzione di Nietzsche dalla Inaudi o dalla Mondadori dovette chiedere alla Delfi e con questo fece la fortuna di questa piccola casa editrice che ha tradotto tutte le opere di Nietzsche l'altro tema è appunto quello della questione dello Ubermash ma su questo tema torniamo la prossima volta e lo approfondiamo e lo approfondiamo